Ma io non posso andare via dalla biblioteca senza parlare con una bibliotecaria, già che insomma la bibliotecaria è un lavoro bellissimo, un mitologico quasi. Sì, è proprio bellissimo, è bellissimo perché sei a contatto con le persone e soprattutto queste biblioteche rionali che si trovano proprio nelle zone di periferia, che sono le zone dove vive la gente, e sono importantissime, proprio presidi di cultura, ma anche di connessione tra le persone. Chi sono i vostri lettori? Chi è che viene qua a prendere i libri? Chi è che viene qua a passare del tempo? Chi è che viene qua anche a vedere, a lavorare e a partecipare alle tante attività che fate? Le persone curiose, curiose intellettualmente, le persone che hanno bisogno, danno stimoli, hanno bisogno di stimoli, persone, diciamo, sveglie, intellettualmente curiose. Ci sta dando la notizia, esiste ancora gente sveglia allora? Sì, 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 attenta. Non è tutto quello sfacere allora che diciamo molti di noi giornalisti, sai, tendiamo un po' a dare sempre il bicchiere mezzo vuoto, se non direttamente rotto. Perché i giornalisti risentono della crisi dei lettori di giornali, però ci sono i lettori di libri e comunque ci sono e sono abbastanza numerosi. Perché che se ne dica ci sono e sono veramente quella parte, secondo me, più interessante della società perché non si riempono di luoghi comuni e comunque vanno avanti, vanno alla ricerca dei loro interessi e approfondimenti. E questi interessi spaziano? Quali sono? Beh, ma non c'è una generalità. Oppure quali sono i più particolari, quali sono i più particolari? L'interesse che trova uno può essere interessato a quello, invece l'hai trovato in questi anni lavorando qua? Sì, ce ne sono. Aspetta, ne parlavamo proprio ieri. Ci sono anche delle persone che magari sono particolarmente fissate su quel tema. Adesso non mi viene proprio l'esempio. Se tu guardi la lista di presti... Ah, ecco, magari sulle proteste dell'Iran o di quel tipo di problematiche lì. Medio Oriente, così. Esatto, Medio Oriente. Ci sono delle persone che poi suggeriscono a noi i libri e diciamo che... Ah, ecco, un'altra cosa è che è difficilissimo. Molti vengono e si fanno consigliare i libri dai bibliotecari, però è difficilissimo, è proprio personale il gusto di un libro e quindi per noi è difficilissimo. Magari gli consigliamo il nostro preferito e poi in realtà ci ritorna indietro una sciocca. Ma posso dire che non ce la fa neanche l'algoritmo di Spotify a dirmi qual è la musica che mi deve piacere, ce la può fare lei che... Tra l'altro vedete tantissima gente. Sì, però è proprio una cosa personale questa del libro. Sì, 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 è proprio una cosa... Anche lo stesso libro, un libro che ha fortuna, non è spiegabile, neanche con il passaparola. Forse quella è la cosa più importante per tutto, però... La faccia dei social. Sì, sì, anche. Però non si spiega la fortuna, neanche con il lancio pubblicitario. Non si spiega perché alcuni libri hanno un successo, hanno un sacco di prenotazioni, eccetera, e altre che magari sono veramente belli, interessanti. Non si capisce. Questo è un enigma anche per... Tocca qualche corda dell'essere umano che magari chissà poi... No, ma poi a volte lo prenotano, lo leggo, e poi dicono, no, vabbè, no, mi sono fermato alle prime venti... Il bello della biblioteca è anche quello, che è un servizio gratuito, forse l'ultimo rimasto. Forse raggiunge una cosa, e a Milano la parola gratis non la si sente più da tanto tempo. Non solo a Milano, a Milano per di più, ma non solo a Milano. Ed è veramente una cosa importantissima da preservare. Quanto legge una bibliotecaria? Quanto legge? Io leggo la sera. Sempre, da sempre, prima di diventare... Più libri a settimana? Sì, poi dipende dal tipo di libro, cioè dipende. Non li conto, non li conto. Ha perso il conto. Bene, grazie allora, complimenti per il lavoro che ha fatto, e continuate a farlo così perché è davvero importante quello che viene fatto in questi luoghi, i presidi di cultura. Non solo la Civil Week, ma oggi con la Civil Week possiamo scoprirla ancora di più.